Signor Soletta, le vorremmo chiedere un messaggio per il Natale, per i nostri telespettatori, un augurio da parte del Vescovo di Ventimiglia San Re. Sì, ridico un po' quello che sto pensando in questi giorni a quello che ho richiamato anche nell'Omelia, che sia un Natale vero, perché buono il Natale, noi ci auguriamo e lo auguro di cuore davvero a tutti quanti, in modo particolare in questo tempo in cui a motivo della congiuntura, noi la chiamiamo crisi economica, ma forse è una definizione parziale, non è soltanto crisi economica, è crisi di umanità, è crisi di coscienza, è crisi di cuore, che poi si manifesta anche come triste frutto nella crisi economica. Comunque, in questa congiuntura piuttosto difficile e critica, a volte mancano delle condizioni, diciamo noi, per fare un Natale buono, ma io sono convinto e lo auguro a tutti di cuore che il Natale per essere buono deve essere vero. Ci siano, e mi auguro che ci siano per tutti, tutti quegli elementi di contorno, dai più spiccioli ai più semplici, alle cose più importanti come la casa, il lavoro, la salute, certamente ci sia questo nella vita di tutti, ma ci sia soprattutto il Signore, perché se non è un Natale vero, non è neppure Natale, e pertanto buon e vero Natale a tutti.